Buongiorno, oggi è il 22 agosto, guardate che mese mi hanno buttato, guardate qua, è nuovo, è nuovo, è nuovo, è che sta nel filo a fuori, e poi ci sono montato, ci sono montato, ci sono montato, è bello, guardate, faccio con moglie, ci viene col primo, stamattina facciamo la rossa, è nuovo, guardate che bello colore, ci manca solamente la maschiatura, il chiave, ci viene col primo, 250 euro, pure qualcosa mancante, c'è il rumo, o le hanno cominciato ai tuoi calmi, è una foggia, perché i compagni miei vanno vendendo la frutta, e poi c'è il rumo, guardate che ho fatto, guardate, guardate, è nuovo, è nuovo, è nuovo, c'è un annusamento, è un contatto, perché già, ci sono saccate, la vendita è qui, la vendita è qui, la vendita è qui, è nuovo, guardate qua, è nuovo, guardate qua, è nuovo, ma guarda, ah, questo è il secondo mese, mette la seccina, lui è finita e va in modo, lui ha già avuto una bicetta elettrica, 6.800 euro, ha già venuto, mi chiamano, sta andando a me, mi chiamano sempre, e io, e loro io vado anche conmigo, ti vede poi prima che io ci sono, il commissione, come appena ho fatto il token, dopo là, meno di 50.000 pezzoni che avevano ammazzato, a me ha fatto 250 euro, perché io c'ho provato 150, 100 euro non li buscavo, no,